Bella a tutti ragazzi, qui Plasm Games, bentornati in questo nuovo video. Oggi abbiamo un nuovo provinato, Vima Anima, cioè Nicolò. Sfiderà Andrea, che non è del nostro team, però è forte. Ragazzi, sentite, visto che è stato a fare solo provini, io me ne vado. Perché? Dopo giochiamo. Perché si è rotta. Però io mi sono rotta, dire il vero. Eh, che cosa? Eh, ho censure, non si può dirlo, sono a portare gli sverbi. Rotto, rotto. Va bene, facciamo questo provino, forza. Sfideri, forza. No. Eh, va, vi sta qui. Eh, due, uno via. Due, due, uno via. Nonostante gli lag. Nonostante la palla della direzione. Vabbè. Mi sono inzettati tantissimo. No, ripeto, sono morto. Proprio mai fatto dei nighties impressionanti, eh. Non le ho volute le strane perché sono buona. Ma perché l'ho capito? Ma perché l'ho capito? Ma perché l'ho capito? Credo che sarà un mini video perché comunque facciamo un round perché dopo facciamo... C'è già, dopo giochiamo. Coronavirus, scusate. Risparatemi un pochino. Eh, vabbè. Non ricordatevi, 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 non ricordatevi. Ma c'è un'altra mano che ho fatto, non ricordatevi, non ricordatevi, non ricordatevi, non ricordatevi, non ricordatevi, non ricordatevi. Raga, ma ci possono fare le bozzette nel video? No. No! Che cazzo! Ma perché? Vabbè. Che strano. Chissà perché? Ah, vabbè. Non ricordatevi, non ricordatevi. Non ricordatevi. Non ricordatevi. Non ricordatevi. Perché loro non hanno shield e quindi non si possono curare. Dall'andre. No, non potete avere shield. No, 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 no! Ah, ma... Ah, ma non è che non è che non è che non è che la bozzetta. Oh, mi ha la bozzetta. Credo che vi anima passate il provino. Benvenuto nei plasma. Ma che stai, io la, 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 la. Sì, esatto, perché sei scarso. No, hai detto che mi è un po' che tu qua. io credo che questo video mini possa finire qui mettete like e bene